buongiorno come vedete aggiornato la struttura allora gli scp e gli altri posti che troviamo qui qua nelle due porte qui davanti gli altri aspetta vi faccio vedere apriamo ah la carta non c'è la carta in mano qui ci sono gli scp ho messo le telecamere che teoricamente dovrebbero darmi un segnale di emergenza su questo coso essendo che prima l'ho fatto suppongo lo faccio anche di nuovo qui che c'è cosa c'è qua dentro a roba mista qui invece per mettere gli scp si scp c'è animatronics telecamere funzionano perché sono non si muoveva ok apriamo la porta tutto tutto usciamo allora ecco cosa stavo dicendo prima su questo cos'è un tablet perché non si apre ok prima sul tablet ho visto un problema alle telecamere non so dove infatti controlliamo lì c'è una telecamera lì c'è una telecamera la la che circonda una casa per vedere se passa qualcosa perché prima ho visto gli scp che giravano in giro ma roba normale quindi se qua non è qua è l'errore dovevi inchiare l'errore forse laggiù laggiù dovrei aver messo una telecamera tu ti chiedi perché perché c'è dalla lava dalla lava possono spawner gli scp teoricamente almeno il ratificio a distruggere infatti l'ho messa lì non guardate che storta perché dovrebbe essere dritta in realtà allora andiamo a controllare togliamoci no stivali ok perché non si vede l'armatura vabbè andiamo scusate allora quanto c'ho la salista montagna di merda c'è l'errore dovrebbe essere sulla telecamera qui vicino perché le altre avete visto le controllate e non c'è niente vicino quindi ecco ma è storta veramente cos'è no allora lì vedo dentro vedo la suora che è quella che vi ho detto prima no perché se quella porco di quel suora picchia con la persona picchiala picchiala più che poi aspetta non picchiare che forse gli piace quasi quasi in butto alla lava che edito adesso non so quella suora era l'SGP 1666 sì in pratica in pratica uccideva le persone la suora perché deteriorava gli apparecchi elettronici organismi riventi ma che cazzo non so io ma la vera domanda perché c'è la seconda persona di cui non mi era il nome perché ma ma sto ventilatore non ha un'anima e ti togli dalle palle grazie te non ti parlo allora qui c'è croci testa zitta hola che tale che necessitas boh censurerò la cosa perché siamo su youtube quindi le sgoschi le sgosi così cosa c'è qua dentro la tunica da suora che ce l'ho già le croci e il letto di tete di purificare questo ambiente non è più sacrale come dove finita la croce scomparsa ok ma facciamo una cosa più intelligente uccidiamole tutte e due però prima mi serve questa cosa per sicurezza chiudiamo ti togli ti togli grazie togli inutile ammazzo di pixel di merda ok vaffanculo togli di croce del cazzo e niente one shot con un arco power 5 interessante questa è la vera domanda possiamo uccidere l'altra chi l'era sotto sembra sempre lei quindi chiudiamo ma perché ce ne dovrebbe essere due di questa qui allora chi è una persona di cultura sa chi è questa qui si può ammazzare io spero di sì allora carichiamo l'arco e spariamo in testa mamma mia l'uccisa fortissimo quanto godo che è morta suga aspetta ok telecamera sono a posto perché di solito o lo fa verde o fa il segnale rosso quando non vanno ma adesso uccidiamo questa qui in questo momento sono felicissimo mi ritorno a casa mia spacchiamo che sa su che sa si ma vabbè perché delle slab allora usciamo chiudiamo qua perché non voglio che aspettiamo il ventilatore ma ok chiudi ok parkour 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 por porco dio cos'è stato paresemente l'anno da caduta andiamo sotto l'acqua muoio già sotto l'acqua muoio già sotto l'acqua muoio già sotto esco vabbè taglio ed esco usando ghiaccio fatto che perché è aperta probabilmente non caricava il chunk ecco perché... ok rientriamo... questi dobbiamo mettere in scp la suora invece il letto della scima lo dobbiamo mettere a sinistra allora la scp la suora le croci e andiamo a mettere in qui madonna santissima mettiamo qua insieme al pokemon minchio mettiamo il letto e sta qua letto e no sta qui e il letto il ventilatore lo metto di sopra mettiamo di sopra il ventilatore ma dove possiamo metterlo allora bottone sono passato a prima colpa vabbè io togliere questo vetro ok ha palesimente senso in quel posto e quindi allora il secondo personaggio sappiamo tutti che è un personaggio creato da una persona che fa video per persone adulte invece del scp 166 ovvero una ragazzina europea cioè con gambe di cervo e corna e a quanto pari tutte le cose elettroniche si scompongono tutti gli oggetti semplici si distruggono e tutte le cose organiche si decompongono ah e se per esempio fumi l'effetto della tosse del fumo va all scp anche se non tu non fumi da molto interessante in pratica è molto sensibile a tutti gli agenti inquinanti come può essere il fumo inalato dalla sigaretta e quindi ciao